Averto una presenza, io sento la morte, è qui, no, noi, tu hai già ucciso e sento che ucciderai ancora. Cinque colpi mortali, dodici ferite, inferte forse con un'accetta o mannaia da macellaio. Lei è quello che ha visto tutto, il super testimone oculante. L'assassino è uno schizofrenico paranoico. L'individuo che uccide con quella furia lo fa certamente solamente quando impreda un raptus. Tutto quanto è nella villa, nessuno potrà e dovrà sapere.